Allora sulla lenza di Stefania con la lenza Maracas inneschiamo la camola cucita in maniera da avere un innesco piccolo estremamente naturale e da insospettire al minimo le nostre trote la leghiamo così ruoterà anche molto bene ecco fatto Stefania puoi andare a lanciare io provo un innesco leggermente più voluminoso simile a quello di Stefania inizio con quello poi cambierò inizierò con una doppia camola quindi la prima la innesco dalla coda passo lungo tutto il corpo esco poco prima della testa la tiro fin sul filo prendo la seconda camola la innesco dalla parte della testa esco con l'amo a metà del corpo testa con testa innesco ad elle ecco un po di filo delle camola innesco ad elle e andiamo a vedere se sarà un innesco efficace